10 comportamenti da evitare con il monopattino elettrico Informazioni per una mobilità sostenibile e sicura 1. Trasportare passeggeri o cose 2. Utilizzare cuffie oppure auricolari su ambedue le orecchie 3. Condurre animali 4. Fare uso di telefono cellulare 5. Farsi trainare o trainare altro veicolo 6. Parcheggiare il monopattino dove non consentito 7. Creare pericolo o intralcio per i pedoni 8. Transitare sui marciapiedi o sotto i portici 9. Procedere contro mano e sugli attraversamenti pedonali dove non consentito 10. Passare con il semaforo rosso